Il primo gol in Serie A Team del Fante 1-1 E attenzione a quest'opportunità per il Bologna! Orsolini! 1-0! 5 minuti di partita! Il dito puntato verso il cielo e il vantaggio del Bologna! Bairami tunnel! Poi pallone basso! Felipe Anderson! Marin la piazza! 2-2! 2-2! Al 94esimo! Praticamente all'ultimo respiro! Praticamente sull'ultimo frame della partita! Festa grande! Sulla panchina di Zanetti! Incubo per la Lazio! Vilena avanza il 10! Ancora Vilena contro il piede della Salernitana! Vilena porta palla! Arriva a limita! Spazio per calciare! E trova il gol del pareggio! Al 49esimo! La rete di Vilena! Seconda in campionato! 1-1! Alla Rechi! È il 10! Va a prendersi l'applauso dei suoi tifosi! Tulloi! Bugha! Pallone appoggiato per Coffmeiners che prova il sinistro! Coffmeiners! 1-1! 47esimo minuto! Ci pensa Coffmeiners a pareggiare il match del Dallara!